Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi l'after patch per fare 10k ogni 15-20 secondi ragazzi Glitch per poveri, glitch per chi ha iniziato da poco e vuole avere un piccolo boost per iniziare senza sbatterci più di tanto Quindi requisiti knight ragazzi e poi ci mettiamo la passiva Entriamo all'interno del knight dalla parte alta, quindi da questa entrata qua e non dal garage E dovremmo scendere giù queste scalette Una volta che abbiamo girato ragazzi questo angolo, quindi passato il cancelletto che abbiamo qui davanti Ci comparirà sempre il pallino blu del knight, questo qua che è davanti a me Ci sono vari scenari possibili, uno è questo e un altro ragazzi è quello che sta nel bagno e butterete fuori il tizio Nella stessa maniera in cui è successo adesso, infatti vedete in alto a destra 10k ragazzi Quindi ragazzi glitch semplicissimo, facilissimo e velocissimo per fare soldini veloci e facili Lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi a tutti i miei canali ragazzi Su youtube ho aperto un secondo canale dove non c'entra niente del gaming Se qualcuno se l'è perso e si vuole iscrivervi per supportare il canale è ben accetto Bella regà, alla prossima Sbada bam Sbada bam